conosco quel ragazzo e conosco la mamma che mi ha provato a chiamare ma non me la sono sentita di rispondere lo denuncerò perché mio figlio è stato solo fortunato voglio sapere capire perché quel ragazzino girava armato di un coltello a parlare in un'intervista al messaggero e la madre del ragazzino di 14 anni ha coltellato ieri sera dopo le 20 a roma nei pressi della fermata metro di lepanto la donna è ancora sconvolta suo figlio è stato portato in gravissime condizioni al bambino gesù di roma dove è stato sottoposto a un delicato intervento l'aggressore che lo ha colpito con un coltello è stato fermato dagli agenti della polizia di stato e denunciato si tratterebbe di un amico del 14 anni i genitori si conoscono e loro si frequentano da tempo avrebbero discusso per un cappellino un motivo futile banale che avrebbe fatto scattare la coltellata da capire perché il 14 anni girasse armato sconvolte le persone che hanno assistito alla scena lepanto gli agenti che indagano sul caso lo ascolteranno quando si sveglierà per avere anche la sua versione dell'accaduto e capire cosa sia successo